Lo street food di qualità ha conquistato Cremona. Nel fine settimana la tre giorni di itinero ha tirato migliaia di buongustà in piazza Roma e in parte di via Mazzini decretando il successo della manifestazione dedicata alle prelibatezze dei track food da tutta Italia e organizzata da confe esercenti. Grande soddisfazione per l'associazione che dopo la bella parentesi torna però a concentrarsi su una questione più spinosa, a preoccupare la difficile convivenza del mercato con l'imminente festa del Torrone. Nonostante gli sforzi per trovare l'accordo con gli amministratori, infatti la festa del Torrone che torna a Cremona dal 21 al 29 novembre continua a rappresentare una minaccia per gli ambulanti. La richiesta avanzata dall'assessore Barbara Manfredini di spostare i banchi del mercato per tre giorni, il 21, il 25 e il 28 novembre, in corso Vittorio Emanuele, non va assolutamente giù agli ambulanti che temono le forti perdite già sperimentate con lo spostamento del mercato gli anni passati, in un mese tra l'altro pressato da scadenze fiscali importanti. Le ragioni di tale preoccupazione sono state ribadite da Confesercenti e Anva anche la scorsa settimana nell'incontro con il Comune e lo saranno nuovamente il primo di ottobre in Commissione Commercio grazie al via libera dato dal Presidente Carletti. Soluzioni alternative sono state avanzate all'amministrazione ma per ora l'accordo non c'è. Lo spostamento proposto dal Comune vede una dislocazione troppo rettiline, troppo lontana per una grossa fetta di ambulanti. Il Comune vorrebbe spostarne un centinaio, secondo noi dovremmo arrivarne a spostare al massimo una quarantina, ovvero fino a via La Ponzone. Una parte del mercato dovrebbe rimanere dov'è in virtù di aree che magari la festa del Torrone alla mattina e nella giornata di mercoledì magari non utilizza. Questa è l'opzione che abbiamo visto che il Comune, con i tecnici presenti, stava analizzando di più. Voglio ribadire che noi abbiamo proposto tre soluzioni. La prima era la convivenza esattamente come l'anno scorso, è andata bene l'anno scorso, non capiamo perché non replicarla quest'anno. La seconda è questa convivenza che abbiamo analizzato e la terza, ricordo, che è quella il primo sabato rimaniamo dove siamo e poi il mercoledì e sabato ci saremo spostati. Se si trova un punto di incontro come quelli che noi abbiamo auspicato, sicuramente è la soluzione migliore, altrimenti il Comune procederà per la sua strada e noi sicuramente procederemo per la nostra di strada.